E' stata inaugurata ieri a Nuoro nella Biblioteca Sati in occasione degli eventi dedicati al Giorno della Memoria per ricordare la tragedia della Shoah, la mostra Anna Frank, una storia attuale che ricorda le vicende della ragazza tedesca di origine ebraiche che ha raccontato al mondo intero le vicissitudini sue e della sua famiglia nell'orlando occupata dai nazisti dove si era rifugiata per suggerare persecuzioni nazistiche che alla fine riuscirono a scoprire il nascondiglio della famiglia grazie a un delattore e la deportarono nel campo di sterminio di Bergen-Belsen dove trovò la morte. Il suo diario, recuperato dopo la liberazione dal padre Otto, scampato alla morte, è diventato una testimonianza toccante della tragedia della Shoah. L'iniziativa promossa da Radio Barbagia, dall'assolato comunale della cultura che ha concesso il patrocino e il consorzio di pubblica lettura a SATA insieme all'associazione Brangiais di Cagliari, è stata presentata ieri nel corso di un appuntamento ospitato nell'auditorium del consorzio di lettura. La mostra è stata allestita dalla fondazione Anna Frank di Amsterdam ed è stata tradotta in oltre 20 lingue, e ha toccato oltre 100 nazioni. L'inaugurazione ha visto la partecipazione del sindaco di Nuovo Andrea Soddu, della storia regionale della cultura Giuseppe De Sena e dell'addetto stampa dell'ambasciata olandese e in Italia Hart Eering. I lavori, coordinati dal giornalista Graziano Cano, hanno visto la proiezione di un documentario sulla vita di Anna Franche e la lettura da parte degli studenti del liceo classico Asproni di alcuni brani del diario. Il coro Nuguramada, invece, ha eseguito alcuni brani. La mostra, che si potrà visitare fino al 28 febbraio, racconta due momenti diversi della vicenda di Anna Franche. Una prima parte racconta gli anni dal 1929 al 1945, mentre la seconda le vicende del padre Otto e del ritrovamento del diario e la sua diffusione universale. Non manca un accenno ai più recenti episodi di violazione dei diritti umani.